Nuova settimana, nuovo mercato nero di Mauriz, finalmente è stato ritrovato. Questa settimana ci troviamo a Lavoracius Canopy e il mercato di Mauriz sarà relativamente vicino. Andiamo quindi a vedere dove si trova. Vi ricordo di iscrivervi per non perdervi il mercato nero di Mauriz e quando si sposterà e cambierà contenuto la settimana prossima. Detto ciò, il percorso è estremamente semplice. Vi basterà recarvi all'arena presente a Lavoracius Canopy e sulla sinistra ci sarà il mercato nero. E fatemelo dire, dopo una settimana giocando a Wonderlands, mi manca Borderlands 3. L'interfaccia di Borderlands 3 è molto migliore. E nonostante la grafica sia un pelo peggiore, la fluidità e la velocità del gioco sono molto migliori, ma saprete tutto la mia recensione completa di Wonderlands. Eccoci quindi, arrivati dal mercato nero di Mauriz e vediamo cosa contiene questa settimana. Troveremo il cecchino, il leggendario Sandok, il motivo per cui usare il mercato nero di Mauriz, arma fortissima, ma anche facile da formare, quindi sta tutto da voi. Troveremo l'Embrace the Pain e infine la granata leggendaria Red Queen. Troveremo l'Embrace the Pain